L'esca bilanciata è un'esca che ha un peso minore all'esca fondante classica. Anywater la produce per tutti i gusti, per tutti e dieci gusti, in tre misure diverse, 16, 20 e 25 mm. È un'esca che si adatta bene a molti terminali, se non a tutti i terminali, e a molti fondali soprattutto. È un'esca più alleggerita delle altre, troviamo questo vantaggio soprattutto su un letto di pastura, quando la carpa magari si avvicina al letto di pastura è la prima pallina che riesce ad entrare in bocca alla carpa durante l'aspirazione. È molto facilitata per l'appunto dal poco peso. A mio parere l'esca bilanciata può coprire il 95% delle azioni di pesca, soprattutto io la utilizzo in ambienti dove mi serve avere una pallina che rimane risaltata dalla pastura classica. Va benissimo utilizzarla in fondali molli come in fondali sassosi, perché comunque sì, è un'esca che non riesce a nascondersi né sotto la melma né fra i sassi, non riesce a cadere. Soprattutto se la combiniamo ad un terminale magari rigido oppure combi, riusciamo ad avere sempre una presentazione ottimale per la pesca. Inoltre Airy Water mi dà la possibilità di abbinare alla mia bilanciata che scelgo in pescata, di abbinare tutta la linea di esca, partendo dall'esca da pastura alle hook bite fino ad arrivare sfarinati. E questo è un vantaggio non da poco nelle mie sessioni di pesca. E questo è un vantaggio di pesca.